benvenuti grazie grazie per essere qui con noi dunque come avete visto l'anno 2020 è stato molto movimentato da un punto di vista di mercati da un punto di vista di regolazioni e ovviamente di vita sociale quindi come ha impattato i mercati questo e cosa ci possiamo aspettare andando avanti nel 2021 dunque nel webinar di oggi parleremo di diversi argomenti parleremo del ciclo dell'economia dove ci troviamo parleremo di quali sono stati i vincitori del 2020 quali potrebbero essere vincitori del 2021 e se queste tendenze che abbiamo visto continueranno potrebbero continuare la prospettiva per il 2021 per i mercati azionari l'usd che è una valuta ovviamente tra le più tradate al mondo quindi nelle coppie dell'usd che recentemente ha avuto molta debolezza ed è scesa molto quindi andiamo a parlare un poco per i mercati fx e la prospettiva per il dollaro e andremo a parlare anche delle materie prime in particolare magari dell'argento dei metalli preziosi inclusi altri metalli quindi nel 2020 ovviamente l'argento come l'oro hanno guadagnato molto cosa possiamo vedere nel 2021 i mercati delle materie prime quindi andiamo a vedere il 2020 come molti di voi sanno ha mostrato quanto possono essere inutili tutte le previsioni questo è motivo per cui io mi concentrerò su dove andiamo dove siamo oggi e su cosa è stato scontato dai mercati perché ovviamente dopo mesi e mesi delle stesse regolazioni e delle stesse linguaggio dalle banche centrali i mercati a un certo punto incominciano a scontare queste decisioni partiamo con un poco di top news quindi i lenti principali della settimana e del passato recente abbiamo visto che joe biden è stato certificato come presidente degli stati uniti nel congresso americano la settimana scorsa i democratici quindi del partito democratico statunitense assumono il senato il controllo del senato dopo aver vinto il secondo turno delle elezioni in georgia che sarebbe stato proprio questa il fattore a dividere questo senato perché la casa dei rappresentanti è già il controllo democratico la presidenza del controllo democratico sotto biden e harris e adesso anche il senato con queste due vittorie in georgia hanno una parità del 50 e 50 e con quando esiste una parità nel senato praticamente viene spartita dal vicepresidente che in questo caso è democratico quindi in teoria si è una super maggioranza andremo a parlare questo adesso anche abbiamo visto che l'inflazione negli stati uniti aumenterà e inizierà ulteriori azioni della fed che sembra essere per adesso abbastanza stabile abbiamo visto ovviamente il bitcoin per coloro che seguono le criptovalute a livelli record è arrivato a 40 mila adesso si è ritirato leggermente negli ultimi giorni wall street gli indici di wall street che raggiungono i massimi storici il dollaro usa che sta cercando di rafforzarsi in risposta a rendimenti migliori è il petrolio che risponde positivamente ai volontari dalla produzione dell'arabia saudita che abbiamo visto che molto spesso l'opica ha difficoltà a trovare accordi sul taglio della produzione ma in questo caso l'arabia saudita volontariamente ha deciso di tagliare la produzione dal suo lato come credo molti di voi se non tutti abbiano visto quello che è successo negli stati uniti la settimana scorsa questa è un'ottima immagine da vedere perché rappresenta un poco quello che stava succedendo in essenza non tutti hanno accettato la sconfitta di trump e alcuni dei repubblicani nelle ultime elezioni americane quindi tra cui quelle della georgia e questo ha portato una breve rivolta al campidoglio quindi alla capital di washington una cosa che veramente sembrava una cosa da un film però le rivolte stesse non hanno avuto quasi alcun affetto sul mercato e sembra abbastanza strano questo fatto ma l'acquisizione democratica del senato potrebbe avere un enorme impatto sulle prospettive di wall street e adesso andremo a parlare a parlare anche di questo l'argomento della settimana come avete intuito è la piena vittoria per i democratici negli stati uniti cosa vuol dire questo per i mercati e perché è importante e perché i mercati hanno reagito più a questo che al sedio praticamente a capitolville dunque la blue wave quindi l'ondata blu che rappresenta il controllo democratico potrebbe essere una speranza per wall street joe biden è stato ufficialmente riconosciuto dal congresso come futuro presidente degli stati uniti dopo i disordini in campidoglio trump ha ammesso che ora concentrato su una transizione di potere regolare ed ordinata anche se c'è un piccolo asterisco che anche se lui lo è magari alcune della popolazione non lo è la vittoria in georgia al senato ha fatto guadagnare ai democratici la maggioranza al senato grazie al voto del vicepresidente come ho già spiegato pieni poteri da un punto di vista legislativo significa libertà nelle scelte personali di biden anche nelle elezioni dei membri della fed che devono essere approvati dal senato quindi come potete vedere è tutto collegato una all'altro quindi la vittoria di biden e la vittoria al senato è tutta collegata alle prospettive per i prossimi anni perché non è una dittatura negli stati uniti quindi non è che il presidente decide cosa si fa e allora si fa tranne con qualche ordine esecutivo che a volte anche quello può essere bloccato ma principalmente qualsiasi legislazione deve passare dal congresso quindi entrambe le parti del congresso la casa dei rappresentanti e il senato e poi finalmente va dal presidente in una situazione normale come si è vista anche sotto tram di solito le cose che magari volevano essere diciamo i piani dei democratici andavano al congresso passavano dal lato delle case dei rappresentanti poi andavano al senato e venivano sempre bloccate in questo caso invece biden ha quasi libera scelta perché qualsiasi cosa a meno che ovviamente non perde il controllo dei rappresentanti democratici potrebbe essere attuata e questo è importante perché andando a vedere la sua agenda il suo piano che anche prima delle elezioni aveva intuito aveva lasciato intuire che avrebbe alzato le tasse su wall street avrebbe fatto un piano di infrastrutture avrebbe cercato di comunque aumentare anche i stimoli fiscali e monetari per i cittadini normali quindi di cui tutte queste cose sono quasi date per scontate a questo punto dato che c'è questa super maggioranza il mercato si concentrerà principalmente sul programma di stimolo per l'economia che ho appena accennato i pagamenti diretti ai cittadini la questione di eventuali aumenti fiscali non dovrebbe essere sollevata all'inizio della presenza di biden pertanto quindi si concentra sulle cose positive il mercato pertanto il rally a wall street potrebbe continuare sebbene le società cicliche abbiano certamente ottime prospettive pertanto vale la pena prestare attenzione a russell 2000 che sarebbe l'indice di piccola capitalizzazione americana quindi di 2000 aziende principali piccole su questo grafico di bloomberg possiamo vedere che il l'indice delle materie prime che è in calo e invece il russell 2000 e al nasdaq 100 che sono due in aumento grazie a queste nuove notizie le materie prime hanno registrato prestazioni migliori rispetto all'S&P 500 durante la ripresa della crisi precedente ma il russell 2000 stava andando meglio del dasdaq dopo la bolla del dot com quindi sono queste tempistiche molto alte infatti vedete queste sono quattro anni alla volta ma vedremo un ritorno di queste tendenze con il ritorno della riflazione quindi l'inflazione di nuovo dopo questo per grande periodo di deflazione andremo a parlare in crisi qui diamo un'occhiata al grafico del us 100 che è il nasdaq ed è un indice molto tradato quindi è uno tra i più tradati grazie a tutti